Ritorna con un importante risultato la missione palermitana di ieri da parte dell'amministrazione comunale di Capodorlando, consiglieri comunali di maggioranza d'opposizione, alla Regione. Il primo cittadino, l'assessore Leggerotto, il rappresentante del Regambiente e i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione hanno incontrato il presidente Musumeci, l'assessore Grasso, il commissario Croce e la deputazione messinese guidata da Pino Galluzzo per chiedere un primo intervento necessario a fronteggiare l'avanzata del mare. L'impegno della Regione è stato nello stanziamento di 400 mila euro necessario di interventi di ripascimento prima dell'estate con circa 50 mila metri cubi di materiale. I soldi saranno utilizzati per il deposito di sabbia nelle zone maggiormente a rischio. Io già lunedì avvierò le procedure relative alle analisi della sabbia perché credo che sia opportuno rifarle anche se noi abbiamo già dei dati del periodo precedente. Dopodiché dovremmo avanzare una richiesta e alla richiesta dovrebbe corrispondere il trasferimento della somma direttamente al Comune di Capodorlando per poter snellire tutte le procedure. Un risultato molto importante per il Comune orlandino che il Sindaco ha voluto sottolineare con una conferenza stampa nella quale ha soprattutto esaltato la compattezza politica dimostrata in un momento delicato. Un risultato ottenuto da Capodorlando e non dai singoli schieramenti. Questa è un risultato di tutta Capodorlando. Non ci sono né maggioranze né minoranze né sindaco né consiglieri comunali né amministrazione. Io credo di avere tra le cose che hanno contribuito a farmi vincere le elezioni c'è stata quella della serenità, della pagatezza e degli equilibri. E sono caratteristiche che non intendo assolutamente perdere. E quindi devo dire le cose come stanno. Io voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti, anche coloro che ci hanno messo nelle condizioni di potere avere questo incontro col Presidente e quindi parlo degli onorevole Galluzzo, parlo dell'assessore Grasso, parlo dell'onorevole di tutti gli onorevoli della provincia di Messina. Perché a noi quello che conta è il risultato. Il risultato l'abbiamo ottenuto grazie alla concertazione che c'è stata tra tutti noi rappresentanti del Comune di Capodorlando. Dalla maggioranza alla minoranza.